Buongiorno, buon pomizio ormai 7-3 per il servito, bottino! Rialzando dalla mia bella cittadina di Asia, avvicinamento caccia, K! K, buonasera 7-3, ti porto i saluti di Baffo Rosso, ti porto i saluti di Renzo che sta in Bacanotte per il suo paese, salutando pure Bananas e lo sfoglio che sta online. Ciao Riccardo, buona di serata, 7-3, vorrei entrare con la famigliola e della fine della settimana. Nella mia mezzorna, come sempre che ti saluto qua. Ciao Riccardo, alla prossima, se la cosa muovete salutare, va qua. E saluto Bananas, vabbè che apparecchio veramente che non lo sento, saluto e non lo sento, baffo rosso. Ciao a te, un abbraccio di quello cuore, è sempre un piacere mio di sentirti. Saluto a me, con Ciaccio Lerrano, ti ho detto a fuoco al cielo che mucchettine le scappano lecchie. Che apparecchi che mi chiamano non mi risponde. Ciao a tutti, buon weekend, occhi vivi e ci isoliamo. Vigilamento, caccia mia bella, ti ho scontato, capa, capa. Ciao Riccardo, abriggio, com'è voi. Ciao Riccardo.